Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo insieme questa bellissima maglia del Napoli, questa ovviamente è la prima, in edizione player, l'edizione fan l'avevamo già vista, trovate qui in auto recensione. Grazie a tutti. I colori del Napoli a me piacciono tanto, tutti gli anni prendo la maglia, quest'anno addirittura tre volte, questa è la seconda recensione, ne arriverà una terza. La maglia è molto bella, la versione player è un po' piattillata, però non ho trovato tante differenze con la versione fan. Il costo lo volete qui sopra, comunque questo ecco, eccezionale come sempre. Se volete ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi cosa state aspettando? Ora vi lascio alla parte finale. Se però volete vedere recensioni come questa tutti i giorni, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Ciao! Grazie a tutti.